ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video allora nel video di oggi voglio parlare della mia esperienza in inghilterra non pensate male perché non ci sono state in questo periodo ma quando ci sono andata avevo 17 anni quindi è stato 11 anni fa un bel po di anni fa in realtà quindi volevo condividerla sul canale perché per chi mi segue da tanto tempo sa che comunque io sul canale faccio anche video oltre a video tipo come riconoscere un narcisista come riconosce un manipolatore sa pure che io condivido cose personali perché il mio canale tratta di ogni argomento quindi ogni argomento lo troverete senz'altro sul mio canale addirittura faccio ho fatto pure video sulla gravidanza su sulle gravidanze pensate un po e non sono mamma quindi figuriamoci in ragazzi in realtà io ho fatto un video sempre in cui parlavo dell'inghilterra mi sembra all'inizio proprio di quando parte il canale per ora un video scherzoso video veramente che l'ho fatto proprio per scherzare però stavolta voglio parlare seriamente sul perché sono andata in inghilterra proprio a 17 anni e su tante cose allora in realtà a me è sempre piaciuta la cosa inglese e la cultura tutto tutto ciò che ha a che fare con l'inghilterra mi è sempre piaciuto infatti quando ero molto piccola guardavo cosa mi piaceva me la carica dei 101 proprio ambientata in inghilterra pensate un po se proprio l'adoravo ma in realtà non è tanto il posto che mi piace mi piace proprio la cultura inglese come sono fatti gli inglesi che hanno educazione ci hanno tratto ci hanno tutto praticamente mi piace proprio mi piace e poi chiaramente mi piace anche il posto perché se non mi piaceva il posto io non ci andavo me ne fregavo che l'inglese erano fatti in un certo modo è chiaro che anche il posto era era bello è bello anzi non è che era bello perché non è cambiato nulla quindi comunque bello meraviglioso un posto veramente meraviglioso è successo che io in realtà sarei dovuta partire era stavo in estate avrei dovuto fare il terzo superiore avevo sempre 17 anni comunque però è successo che scoppiata l'influenza suina e chiaramente non ci sono potuta andare però era diversa dall'influenza di no che stiamo vivendo ora perché l'influenza suina è durata due tre mesi poi il vaccino si è risolto praticamente quasi subito è successo che sono partita appunto ottobre era il 24 ottobre me lo ricordo era un sabato e praticamente sono stata colta dal panico perché diciamo che io ho dei problemini a prendere l'aereo ragazzi ho dei problemini a prendere l'aereo perché io ho paura ragazzi e non mi vergogno a dire che ho paura di prendere l'aereo vabbè ognuno c'è le sue paure e praticamente io le hai detto pazze sono venute a me praticamente dico ma non posso dire ai piloti magari di volare un po più basso non posso dire di ai piloti magari di non decollare proprio perché siccome le aeree hanno le ruote no dico magari con le ruote andiamo così in inghilterra ma proprio le idee più pazze perché io ero proprio terrorizzata anche se sapevo che era una cosa impossibile perché gli aerei se sono fatti così così devono essere non esiste che non volano non esiste niente perché altrimenti una persona qualunque dice vabbè allora vai col treno certo ci metti mi sa tipo 20 ore però ci arrivi e praticamente vabbè alla fine io proprio terrorizzata sono andata in aeroporto e ho cominciato a sentire già parlare inglese è successo che in realtà io sono partita con mio zio non con i miei genitori essendo minorenne ci serviva una persona comunque adulta che si occupasse di me sono partita e sono arrivata in inghilterra dopo tre ore anche se secondo il fuso orario è stato come se ce ne avessi messo due perché lì si va un'ora indietro quindi io sono partita a mezzogiorno sono arrivata alle due però in realtà qui erano le 3 quindi ci abbiamo messo tre ore ma addirittura c'è chi dice io ci ho messo due ore venendo in inghilterra proprio due ore ma posso assicurare ragazzi che l'aereo che ho preso io o sarà stato qualche ritardo non lo so di che però ci abbiamo messo tre ore circa tre ore fatto sta che sono arrivata a me la cosa che mi ha colpito di più diciamo di questo posto è stato l'educazione degli inglesi perché noi avevamo prenotato in realtà il viaggio tutto quando tutto compreso l'albergo in un'agenzia però per un errore che c'è stato per un errore che c'è stato diciamo che non ricordo quale errore è stato commesso praticamente quelli dell'albergo ci avevano detto che non c'era posto cioè l'albergo che era nostro non avevano posto in realtà in quel non avevano più quella stanza anche se era stata prenotata però non si sa perché è andata così praticamente un signore me lo ricordo veramente stato gentilissimo che lavorava appunto in questo albergo non si è fatto scrupoli a farci salire sulla sua macchina non ha voluto i soldi di benzina né niente ci ha fatto fare il giro praticamente tutta la città perché quest'albergo quest'altro albergo dove c'era posto stava la parte opposta dove stavamo noi quindi è stato veramente un bel diciamo un bel giretto con la sua macchina e questo qua mentre praticamente ci accompagnava ci mostrava le cose e mio zio le ha insegnato delle parole in italiano perché questo signore chiaramente non conosceva l'italiano questo è un'altra cosa che mi ha colpito in inghilterra perché noi siamo abituati no che in italia in italia se viene un inglese noi lo conosciamo l'inglese più o meno perché l'abbiamo studiata a scuola quindi sappiamo comunicare in inglese però se noi andiamo in inghilterra e li siamo fregati perché nessuno parla italiano ragazzi nessuno io ho sentito parlare italiano solo dagli italiani cioè solo dagli italiani ma o stavano lì per vacanza come noi o stavano lì per motivi di studio lavoro però soltanto loro ti sapevano parlare in italiano perché gli inglesi non conoscevano una parola cioè non è che parlavano in italiano però magari la pronuncia non era corretta c'è proprio niente di niente ragazzi niente di niente poi una cosa che mi ha colpito diciamo è stata l'eleganza delle persone cioè io ho visto gli inglesi vestire in un modo troppo elegante come se dovessero andare a qualche battesimo qualche matrimonio questo mi ha colpito poi una cosa che mi ha colpito è stato un negozio in particolare che vendeva praticamente costumi da ballo praticamente di tutti i colori sembrava di stare in un arcobaleno proprio in un arcobaleno di colori io infatti quelle cose ragazzi se mi capita di rimettere piedi in inghilterra io ci devo andare a quel negozio e devo comprarmi tanti di quei costumi che forse che forse farò chiudere il negozio perché magari rimarranno senza merce da vendere ragazzi perché proprio è stato bellissimo bellissimo c'è come ci penso ragazzi vi giuro una cosa incredibile poi mi ha colpito cioè più che altro mi ha fatto ridere il fatto che lì c'era un parco questo parco non chiedetemi come si chiama perché non lo so non lo so il nome del parco dicevano tutti nuovi strani quindi non lo so comunque ho colpito il fatto che questo parco aveva un una specie di quadrato diciamo così apposta per i cani dove i cani ci facevano i loro bisogni questo mi ha fatto morire da ridere però mi ha fatto capire che l'inglesi sono proprio inglesi quindi no io ci rido poi un'altra cosa bella è stato comunque i dolci che c'erano le torte che tra l'altro una torta lo è schiacciata mentre ero in una macchina diciamo vabbè forse è meglio tralasciare i dettagli dunque tornando a noi cosa ci sono andata a fare io in inghilterra ma è semplice era un anno che noi a scuola stavamo studiando l'architettura inglese a storia dell'arte quindi in realtà sono andata in inghilterra per fare delle foto per fare delle ricerche appunto sull'architettura inglese tipo prendere le case che sembravano castelli fare le foto e capitelli un sacco di cose c'erano le colonne monumenti praticamente di tutto e di più ragazzi che poi queste foto una volta tornate in italia le ho fatte sviluppare le ho inserite nella mia ricerca poi l'ho consegnata chiaramente a scuola fatto sta che io quell'anno dovevo essere bocciata perché storia dell'arte ragazzi era l'unica materia l'unica materia dico l'unica materia in cui avevo sempre il debito cioè sempre questa cosa che stavo sempre con l'acqua alla gola così a maggio stavo così aiuto sto per affogare fatto sta che consegnando quella ricerca avendo comunque mostrato un certo impegno da 5 quindi da fatto dovesse bocciata sono passata a 7 quindi stra promossa ragazzi proprio stra promossa quindi diciamo che mi è andata bene spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando mettete un pollice in su e iscrivetevi a questo canale